Salve amici, non so quando andrà in onda questo video, ma io sono Riccardo Affinati del Ciccolo Stilografico Romano e oggi voglio presentare questa stilografica Indigraf. Ne abbiamo già parlato in passato, ne ha parlato Ernesto Casciato, ne ha parlato Stilozzo. Io adesso ho raccolto i loro interventi e in più ho aggiunto l'ultimo intervento del maestro Ernesto Casciato, così speriamo che questa epopea vi possa aggiungere nella sua reale completenza. Per quanto riguarda il mio parere personale è una stilografica particolare, quindi sicuramente non è adatta per le mie caratteristiche personali, perché è una simline, è più sottile delle stilografie a cui sono abituato, non mi interessa del penino flessibile perché non devo fare camigrafia oppure un corsivo inglese, però comunque è una penna interessante e può darsi che prima o poi mi venga la voglia di provarla. Per il momento mi affido completamente, ciecamente, a quanto dicono i nostri amici Stilozzo e il maestro Ernesto Casciato. Il momento è tutto, vi voglio bene, alla prochaine, buon fabbricasse da tutti. Allora, qua una penna stilografica dell'azienda spagnola Indigrap, sapete, sono quelle stilografiche che permettono di montare sulla penna, quindi di caricarla anche degli inchiostri ostici come appunto gli inchiostri di china. Io le ho caricate con gli inchiostri di china, vanno veramente bene, nessun problema. Poi avevo fatto anche una recensione su questa Indigrap, l'ultima che è uscita, che monta, diciamo, il pennino, vedete, il pennino a punta sottile, flessibile, è flessibile, lo è davvero, perché vedete, posso fare dei fini e dei tratti decisamente più contrastati, però se vi ricordate avevo detto che, di fatti la Indigrap se l'era anche un po' presa, ma secondo me in maniera del tutto gratuita, perché, vi ho detto, non va molto bene per fare il corsivo inglese, perché ha dei fini troppo spessi che sembrano gomene di una nave e comunque ho un ritardo nella chiusura dei rebbi alla posizione di quiete, quindi ho il tratto inferiore e che dovrebbe essere fine, ancora largo perché il pennino non chiude bene subito in maniera repentina. Ecco, però sono riuscito a ovviare molto bene a quel problema. Come ho fatto? Semplicemente facendo un inchiostro ad hoc, un inchiostro più denso, un ferro gallico diciamo a rilievo, colorato e blu. Allora andiamo a vedere cosa succede con l'ovale stavolta. Vedete? C'è stato uno sfinamento, poi sempre, è sempre un po' più grande, però decisamente più gradevole, la differenza è davvero minima e a questo punto posso posso fare il corsivo inglese, abbiamo un po' di più, ok. Il fine stavolta quasi non lo vedo. Ecco qua, quindi è un inchiosso che poi resta anche a rilievo. scusate, insomma le riprese sono fatte col telefonino perché l'ho voluto fare velocemente, non avevo possibilità di montare tutta la camera, però insomma si vede molto bene questa cosa che insomma adesso con questo inchiostro che poi va benissimo anche per grafie quotidiane, perché questa è la sua lezione, ma la bellezza è che questo è un inchiostro che resta a rilievo, ok? Ben ritrovati cari amici da Stiloso, un grande abbraccio a tutti voi e oggi vi mostro qualcosa di diverso, una penna stilografica, sì, però con delle caratteristiche che la rendono veramente unica nel suo genere, perché lo sappiamo, le novità in questo mondo, nel mondo stilografico, sono piuttosto rare, sporadiche, forse per carità tutto è già stato sperimentato, tutti i materiali sono già stati usati, non metto in dubbio, però oggi è con grande piacere che vi faccio vedere una stilografica che porta un'idea nuova, inedita, magari non a livello estetico ma a livello tecnico. Sto parlando della IndieGraph, IndieGraph che tra l'altro è già stata recensita dal maestro Ernesto Casciato, è andata a vedere anche la sua recensione, decisamente più tecnica della mia. È messa una recensione un pochino più generale, ma spero allo stesso modo gradevole. Come è noto, l'inchiostro di china non è adatto per le nostre stilografiche. In realtà noi diciamo di china, ma sarebbe più corretto dire china ink, inchiostro cinese o indian ink. Non è adatto alle nostre stilografiche perché per farla breve è molto denso, tende a seccarsi e quindi la penna dopo brevi periodi di inutilizzo non parte. Inoltre se viene lasciato a lungo all'interno delle nostre stilografiche rischia di andare ad otturare la condotta, l'alimentatore e quindi poi per la pulizia ci vuole veramente tanto tempo. Però l'inchiostro di china ha anche degli vantaggi innegabili. Innanzitutto è molto nero, è indelebile, quasi sempre, resistente all'acqua intendo, e anche resistente ai raggi solari. IndieGraph, questa ditta spagnola, il nome non lo lasceremo intendere, ma loro sono spagnoli, ha cercato di coniugare il china ink con le stilografiche e per farlo si è dovuto inventare qualcosa di nuovo, abbrevettato, un sistema che consente di mantenere la punta della stilografica sempre umida, quindi mantenere il gruppo scrittura sempre umido. Come? E adesso lo andiamo a vedere più da vicino. Ecco qua la nostra penna, che viene fornita con un piccolo vasetto di Indian Ink da 4 millilitri. Ecco qua la penna, forma molto slimline. Il cappuccio non è da questa parte, questa è la prima cosa a cui bisogna un po' abituarsi in questa penna, solitamente è il cappuccio a portare la clip, no? Invece in questo caso il cappuccio è questa parte qua. E come si vede, il cappuccio ha un divisorio. Bene, in questo divisorio, se lo andiamo a svitare, vedete c'è dell'acqua, perché prima di utilizzare la penna bisogna andare a riempire questo controcappuccio con dell'acqua, poi qui c'è una membrana all'interno che tiene sempre umidificato la punta, la punta della penna. Non so se si può apprezzare dentro la membrana. Quindi prima di utilizzare la penna andiamo a smontare, come ho fatto io, la sommità del cappuccio, metterci un pochino d'acqua e poi a riagitare. In questo modo la membrana farà passare l'umidità rendendo il pennino sempre umido. Vi starete già chiedendo, ma questo metodo funziona? Lo vedremo assieme. Posseggo la penna da più di un mese e vi devo dire che funziona. Magari in qualche sporadica circostanza, se rimane ferma più di sette giorni, può avere bisogno di dare un po' di pressione sul pennino per farla ripartire, ma devo dire che sostanzialmente l'inchiostro arriva, non si secca sulla punta e tutto funziona a meraviglia. Quindi devo dire che questo sistema che si è inventato Indigraf è quantomeno sicuramente funzionante. Certo, bisogna abituarsi al fatto che la penna non si svita da questa parte, ma si svita da questa parte. Bene, adesso però andiamo un po' a vederla più di vicino. La penna è realizzata in alluminio, quindi è una penna leggera, con il cappuccio 22 grammi, senza cappuccio 15 grammi. La finitura è opaca e quindi al tatto la penna rimane molto molto gradevole. Il cappuccio si svita e ci mostra il gruppo scrittura, che è un iovo numero 5 di base, che può essere smontato completamente svitandolo e poi a sua volta può essere staccato il gruppo scrittura, scusate, l'alimentatore dal pennino stesso. Il clip è buono, molto buono, ma piccolo. Il diametro della sezione è senz'altro un po' piccolo, quindi perfetto magari per il disegno, per lunga sessione di scrittura vedremo un po' meno. E il cappuccio non è calzabile, perché ovviamente ha la clip qua. E anche questa scelta ci fa capire come sia forse una penna sì per scrivere, ma anche e soprattutto per disegnare. Perché la china per disegnare, c'è poco da dire, offre un contrasto meraviglioso, essendo nerissima, e quindi è molto più adatta dell'inchiostro stilografico normale, motivo per cui si usava nei Rapidograph. Che però, se ricordate, magari qualcuno di voi un po' più anziano li ha usati, come li ha usati io, erano per carità ottimi strumenti da disegno, ma bisognava sempre stare attenti a non farli seccare, perché la china una volta seccata diventa veramente difficile da pulire. Invece, con questa indigraf non ci sono problemi, perché il gruppo scrittura può essere smontato tranquillamente, messo a bagno magari con una gocciolina di ammoniaca, e tutti i residui vengono via. Bene, vi ho detto tante cose, però adesso andiamo a vedere la cosa più importante, ossia come scrive. Siamo su carta Rodia. Il pennino è un fine, ma è disponibile anche in altre gradazioni. Indigraf. Pennino fine. È un fine di nome e di fatto. Il pennino offre un feedback davvero piacevole, perché essendo un fine io mi aspetto un feedback, mi aspetto quindi anche un certo controllo sul flusso, e devo dire che la china per le linee ha il suo fashion, mi ricorda appunto l'uso del rapidograph. Il flusso c'è, è direi contenuto, non esagerato, e adesso qua c'è avuto una piccola falsa partenza, ma generalmente da penna direi che ha una buona continuità di flusso. qualche sporadica, devo dire, sporadica falsa partenza, ma molto contenuta. Fate conto che deve avere a che fare con un inchiostro molto, molto rognoso. Come vi dicevo, non ho avuto problemi di sorte con le ripartenze, anche dopo giorni e giorni di inutilizzo. Qualora questo capiti, è sufficiente prevere un po', perché questo pendino, sebbene sia lungi da essere un flessibile, ha una certa elasticità, non flessibilità, però vedete, sepigio ha un allargamento del tratto, poi ci mette tanto tempo a ritornare nella posizione iniziale, magari, però, vedete, ha una certa flessibilità. L'alimentatore, diciamo, risponde alla mia esigenza extra di inchiostro. Quello che però salta subito all'occhio, come vi dicevo prima, è che il diametro del gruppo scrittura è un pochino piccolo. Soprattutto per chi come me ha mani grandi, la sezione è un po' piccola, è un po' piccola. Alla lunga può essere un po' stancante, diciamo così, però invece per disegnare, ecco, ricorda più una matita e non ci sono problemi. Come vedete, il tratto che produce è veramente preciso, pulito, a me piace molto. Penso che sia molto buono questo strumento di scrittura anche per chi disegna a mano libera perché è veramente interessante. Vedete qualche piccola incertezza ogni tanto c'è, ma vi dico, è un inchiostro davvero importante, davvero denso, non certo un Pilot Blue che conosciamo tutti per la sua fluidità. Bene, l'abbiamo vista su Rodia. andiamo a vederla anche su una carta che forse è ancora più conosciuta, ossia la carta Oxford Optic Paper e andiamo un po' a vedere. Devo dire che si comporta bene Indygraph. anche qui come vedete il pennino fa il suo l'alimentatore gruppo scrittura fa il suo mestiere. E quindi è il momento un po' di andare a tirare le somme su questa fountain pen prodotta dalle Indygraph. Quali sono i pro di questa penna e i contro di questa penna? Perché come sapete a me piace per tutte le penne cercare di evidenziarne pregi e difetti. Allora, il contro principale secondo me e forse se vogliamo il più grosso difetto è che il diametro della sezione piccolo perché ammanicanti detto del contro a mio avviso principale andiamo a vedere qual è il pro principale ossia l'idea l'idea progettuale che è ottima e soprattutto funzionante da penna funziona con il chiostro di china quindi un'idea progettuale ottima e devo dire anche che il bilanciamento è buono la penna sta comunque ben in mano e ben bilanciata di contro non calzabile anche se questo è un difetto decisamente minore e sopportabile soprattutto se è usata per disegno quindi idea progettuale buona bilanciamento molto buono contro sezione piccola e non calzabile ma non calzabile lo metto tra parentesi tra il pro metto anche i materiali perché la penna è ben realizzata è leggera ma ben fatta e quindi voglio premiare anche questo effetto matt della penna che è comunque molto molto gradevole prezzo il prezzo è 110 euro circa qui si potrebbe stare a discutere all'infinito se tanto se poco io voglio dirvi in linea di massima non è poco è un prezzo abbastanza importante però si paga che cosa si paga questa unicità il fatto che è praticamente l'unica una delle pochissime pene che può essere usata con l'inchiostro di china senza problemi e quindi in definitiva il prezzo non lo ritengo esagerato lo ritengo tutto sommato centrato con quella che è l'idea progettuale perché leggendo un po' sul sito del produttore si nota come come dire l'invenzione di questo sistema è passata attraverso tanti alcuni fallimenti non si riusciva a trovare il modo per far ripartire sempre la penna invece adesso devo dire ci sono gli usciti è un prodotto sicuramente interessante che io consiglio in particolar modo ai disegnatori non necessariamente ovviamente disegno tecnico a chi piace anche fare dei piccoli schizzi sicuramente è interessante è uno strumento di scrittura insolito e quindi certamente non un prodotto di massa non un prodotto come dire per tutti i palati ok ma per chi cerca alcune cose chi cerca la china è quasi una come dire un requisito indispensabile avere questa penna accoppiata a una stilografica quindi devo dire un bravo al produttore questo produttore spagnolo per aver fatto qualcosa di diverso magari sicuramente ancora qualcosa che è perfettibile qualcosa che è migliorabile io soprattutto lavorerei un po' più cicciona un po' più con un diametro della sezione un po' generoso perché per me perché ha queste dita un po' grandi diventa difficile utilizzarla a lungo ma per il resto sul funzionamento devo dire sono rimasto anche sorpreso perché pensavo sì magari riparte dopo un giorno ma dopo una settimana non riparte invece riparte e quelle poche volte che non è ripartita come vi dicevo è bastato fare un po' di un po' di pressione per farla ripartire subito e poi questo pieno fine della iovo coniuga una precisione di tratto notevole con una discreta elasticità che anche questa mi ha diciamo sorpresa perché non sempre si riesce a coniugare questa precisione con un pizzico di elasticità almeno sui pennini moderni bene detto questo come al solito spero di non avervi annoiato con questa recensione sulla indygraph fountain pen inchiostro con inchiostro di china indygraph ma può essere utilizzata anche con altri inchiostri di china sul sito di indygraph trovate quali sono gli inchiostri che vanno più d'accordo con questa penna tra i quali c'è il rotring classico ma anche il perican 17 spero di non avervi annoiato da parte mia un grande abbraccio vi invito iscrivervi al canale che è il modo migliore per supportarmi fatemi sapere se anche voi avete provato già questa indygraph o se vi incuriosisce un caro abbraccio e alla prossima da stilusso allora salve ragazzi oggi parliamo di uno strumento di scrittura particolare nato quattro anni fa per un uso dedicato ad artisti e disegnatori dopo quattro anni cerchiamo insieme al maestro Ernesto Casciato di vederne anche una terza ipotesi cioè un utilizzo calligrafico e la domanda che mi faccio perché ancora devo vedere il video di recensione del maestro Ernesto Casciato è si può fare si può ottenere tutto questo da uno strumento di scrittura potrei dire in alluminio un posto in alluminio uno slim line sicuramente quindi una forma molto affusolata può creare problemi un pennino Schmidt a tutti gli effetti probabilmente e che altro dire con un utilizzo dedicato all'inchiostro di china per cui un inchiozzo di china attraverso una membrana potrebbe bagnata potrebbe evitare l'essiccamento precoce dell'inchiostro di china mi piacerebbe anche un giorno vederlo alla prova con un inchiozzo stilografico magari anche un indelebile ci mancherebbe però perché perché sicuramente con un pennino Schmidt potrebbe dare un qualcosa in più ma tutto questo io non ve lo voglio anticipare ma me lo voglio godere sarà mai possibile tutto questo andiamo a vedere il maestro Ernesto Casciato perché chi meglio di un calligrafo ci può dimostrare se uno strumento è adatto per la calligrafia oppure no andiamo a vedere sarei contento di scoprire nuove possibilità ci mancherebbe alla prova amici allora oggi voglio parlarvi di una penna davvero davvero speciale allora voi mi direte ma di che penna vuoi parlarci eccola qua vi parlo della stereografica Indigrap che ultimamente avrete visto insomma sui social sta imperversando con pubblicità a manetta a un certo punto poi mi sono chiesto ma sta penna veramente è in grado di diciamo di promuovere tutto quello che viene magnificato su di lei e niente prima di prenderla direttamente da loro mi è capitato di trovarmi a Milano da Pellegrini Arte in via Brera dove tratta anche di materiale galligrafico le avevano le ho provate mi sono piaciute però purtroppo non avevano quelle che interessavano a me cioè perché hanno un bel range di pennini ma non avevano quelli italici quindi ne hanno solo due tra l'altro uno con punta da 1 e 1 e l'altra con punta da 1 e 4 poi ho anche dato uno sguardo per capire se c'erano recensioni di questa penna su YouTube ne ho trovato un paio ma per la carità cioè come al soli ho visto alcuni YouTuber parlano non dico vanvera ma quasi cioè proprio senza conoscermi minimamente insomma la provenienza di quella penna a cosa serve tutte le con quali inchiosi insomma questa è una penna sicuramente speciale e ha bisogno di persone che sappiano veramente su tante cose no e quindi praticamente non sono riuscito a farmi nessuna idea guardando quella roba tranne una grande tristezza ma tolta questa cosa negativa ho visto che appena comunque mi era piaciuta almeno qualità attivamente lì in negozio ho deciso di acquistarne due con le punte italiche ok l'ho ordinata quindi su www.indicara.com dopo 4-5 giorni mi è arrivato il pacchetto quindi tutto sommato in fretta arriva dalla Spagna poi se la manifattura sia lì e le facciano tutte lì questo non ve lo so dire so che il converter è della Schmidt monta un converter Schmidt ma anche il pennino secondo me è uno Schmidt quindi sicuramente buono va molto bene adesso lo vedremo ma la cosa che mi interessava di più era capire se questa penna manteneva le promesse circa l'uso e l'utilizzo di particolari e insidiosi inchiostri cioè mi riferisco nel caso in specie a questi inchiostri qua cioè ai cosiddetti inchiostri tintacchina gli inchiostri di china vedete qua ne un po' perché io li uso assai spesso perché questi sono inchiostri che inchiostri tecnici che venivano caricati su queste penne che appunto sono della Rotring quindi per fare disegni tecnici una volta ma io li uso tuttora per farmi dei filetti oppure quando devo fare dei contorni su delle lettere mignate quindi anche qualcuno dirà vabbè ma gli Emanuensi non usavano la Rotring vabbè meglio vi dico poi cioè se io sono un Emanuense del 2024 uso quello che mi pare se va bene ok e quindi anche perché sono talmente precisi affidabili poi con quegli inchiostri sono totalmente indelebili alla luce e all'acqua che insomma che me frega cioè quando ho raggiunto il mio scopo con un alto livello qualitativo e tecnico uso quello che il mercato mi da solo che appunto queste penne sono penne che fanno per chi non le conosce questa è una punta 03 eccola qua sono scritture come le definisco io ingessate nel senso che da qualsiasi parte praticamente un tondino la punta è tonda e quindi non ho contrasto non posso fare calligrafia di fatti sono penne tecniche allora tra le altre cose queste penne avevano un tallone d'Achille e ce l'hanno tuttora cioè nel senso vedete hanno un loro serbatoio che si riempie con una pipetta e si innestano quindi queste specie di cartucce però tenute così hanno pochissima vita perché questo inchiostro tende subito a seccare pellicolare e a intasare tutta la penna di fatti sono penne che poi vanno lavate molto bene specialmente con l'uso di macchine ultrasuoni con la macchina se no non viene più via allora per un uso consono di queste penne qua infatti inventarono poi subito questi contenitori e diciamo queste rastrelliere dove la penna veniva riposta così ok si incastrava era proprio progettata per stare così vedete qui qua ho praticamente un igrometro adesso chiaramente non la uso da 30 anni vedete mi segna rosso quando è sul verde vuol dire che ho l'umidità giusta perché vedete sotto ho una spugnetta si riempiva d'acqua si inumidiva l'igrometro mi andava al verde e a quel punto potevo riporre le mie penne quindi io quando mi serviva la toglievo la penna perché l'umidità è l'unica cosa che non fa seccare questi inchiostri così di china tra le altre cose visto che parliamo di questo argomento vi faccio vedere per curiosità un'altra cosa cioè io prima della indica per cui il problema me l'ero posto anch'io cioè come posso utilizzare delle penne da calligrafia che non fossero queste allora la brava rotting aveva fatto queste penne qua lo vedete della rotting le art pens sono penne che hanno veramente ma si trovano ancora adesso le ho viste su alcuni siti su alcune piattaforme le hanno ancora quando gli altri non avevano c'erano solo queste pochissime altre penne che avevano le punti taliche vedete quindi avevo preso queste penne poi vedete in questo caso è un contenitore una rastrelliera che ha otto punte vedete io ho chiuso tutti gli altri ne ho tenute solo due perché lavoravo con due punte quindi una una e mezzo una una e nove allora vedete avevo siccome queste sono più larghe avevo fatto sì che per tenerle comunque non direttamente a contatto con la spugna io le piazzavo qua ho fatto una sede più piccola con qualche artificio ho chiuso con un tappo l'altro l'altro foro vedete c'era un altro foro con un tappo e quindi con questo cambio di sezione io potevo tenere le mie penne così e quindi quando lavoravo avevo sempre le penne con la punta fresca inumidita a talluso però dopo quando le riponevo così dopo due giorni erano praticamente già bloccate mentre invece quelle della Indicrap promettono di rimanere sempre attive perché praticamente nascondono un piccolo segreto qual è il segreto? allora il segreto è questo qua praticamente sulla punta sul cappuccio vedete la penna è questa hanno lo vedete una parte traslucida cioè perché comunque è un vetrino si svita c'è una filettatura si riempie il bicchierino questo bicchierino finale di acqua si rinnesta a questa altezza vedete c'è una cosa bianca che si un po' si vede comunque a questa altezza c'è una membrana che permette il passaggio non dell'acqua ma dell'umidità e quindi la punta mi rimane sempre bella inumidita anche se questo non significa che cioè funzionerà beh vi dico di sì perché ormai è quasi una settimana che ce l'ho e le punte sono rimaste perfette quindi queste qui vi posso assicurare che senza nessun artificio come ho detto prima pochi giorni erano già da ripulire e quindi per me è una grande cosa perché io le uso veramente perché se no uso queste penne qua perché ho pure i pennini in intinzione però i pennini in intinzione ha sempre il fatto che lo devi scaricare bene poi quando ti approcci subito è un po' più conservatorio pieno ce l'ha scritta un po' più spessa più sporca poi man mano diventa sempre più fine insomma non ho l'erogazione di una stilografica perché come ho detto molte volte i calligrafi furbi usano anche le stilografiche quelli scemi boh facessero quello che vogliono ma io le uso sia a punta sottile che a punta quadra perché mi permettono di lavorare molto meglio e con più velocità quindi ripeto sempre l'atto sacrale non è intingere ma è scrivere ok poi anche a me piace scrivere intinzione però l'atto sacrale è la scrittura non il fatto di intingere in un calmaio e niente torniamo alla penna allora la penna è questa adesso questa è già fuori vi faccio vedere velocemente vi arriva con questo blister esterno che tolgo di cartone poi c'è un cartonato abbastanza spesso elegante ma nulla di che una cosa molto easy molto semplice istruzioni per l'uso ecco nell'uso la cosa che mi portò subito a Milano quando ero lì è il fatto che vedi che dava effettivamente l'inchiostro indiano vedete questa è collaborata e compresa di un piccolo calamaglietto di vedete timbrato indica comunque indian inc vedete andiamo più vicino così lo vediamo meglio ok l'inchiostro indiano che non è esattamente quello di China sono inchiostri vedete si trovano anche non sono totalmente indelebili come l'inchiostro di China sono ottimi inchiostri ma non hanno secondo me quella potenza diciamo nel risultato che ha l'inchiostro di China vero come quello che vi ho fatto vedere questo qua della Rotring però vedete che qua mi dà una scala di inchiostri man mano che ho meno gocce vuol dire che è meno adatta da quell'inchiostro e come vedete al massimo ho proprio Rotring più altri inchiostri però vedete il Rotring me lo dà quattro gocce che è il top ok quindi ho detto vabbè dai proviamola lì mi era piaciuta che delle prove di scrittura veloci ma erano pennini classici da stilografica quindi F F M insomma poi ci sono anche in oro ci sono pennini in oro però a me interessavano quelli da calligrafia perché io li uso per lavoro e quindi ho deciso di prendere gli unici due disponibili che sono quelli da 1 e 1 e 1 e 4 allora la cosa che volevo dirvi subito è questa qua andiamola a vedere allora vediamo un attimo le penne dal punto di vista estetico del design a me non dispiacciono molto sono in metallo verniciato penso sia alluminio verniciato vedete molto bello una finitura molto bella una clip una clip funzionale hanno questa rastremazione vedete particolare quindi una forma decisamente anche innovativa e questo anche seppur un uovo di colombo insomma secondo me va premiato perché il uovo di colombo comunque lo devi immaginare e fare e qua il progetto è stato portato a termine con un buon risultato allora abbiamo quindi questa punta un po' più grande da 1 e 4 adesso andiamo a vedere e poi abbiamo questa qua più piccola e che ripeto sono le uniche due punte e poi abbiamo questa qua un po' più piccola lo vedete da 1 e 1 allora l'unico vero neo allora mi avvicino mi avvicino un po' di più così vediamo meglio allora l'unico vero neo allora di questa penna è questo qui che ho un pennino italico ma più che altro è uno stub allora qual è il problema che l'ho detto mille volte e lo ripeto devo avere un contrasto della linea tra il sottile e lo spesso molto molto evidente mentre qua ce l'ho ma non è così evidente adesso qua andrà un po' meglio perché è un po' più grande quindi questo e questo saranno uguali questo un po' più spesso ok però sono linee molto molto grandi secondo me c'è un vero italico cioè per fare calligrafia ho bisogno adesso spoilerò il mio astuccio in pelle che mi sono fatto qualche giorno fa allora ho questa stilografica Aurora 88 che mi sono fatto customizzare partiva con un italico Aurora ma me lo sono fatto tirare ancora di più allora ho quella ho quel tratto come questo più o meno uno uno e uno lo vedete siamo nello stesso range ma qua è molto più sottile lo vedete ma è decisamente più sottile sarà tra o quattro volte più sottile allora questo è un vero italico questo è un vero italico ok perché permette di fare la calligrafia quando invece ho una forma un po' più meno tirata no perché qua bisogna cioè si scrive meglio se io scrivo normalmente ma se devo fare calligrafia deve essere un po' nella meta purtroppo questo è un po' spesso quindi io quando faccio calligrafia ce l'ho meno diciamo precisa meno bella poi alla fine avete solo forse solo un calligrafo però io vi posso assicurare che cambia molto però di contro ho il fatto che in questa maniera avendo un penino diciamo un po' meno performante dall'ambito calligrafico però ce l'ho più performante per una grafia comune normale quindi vedete che la penna va veramente bene ok però proprio nessun problema faccio un abecedario vabbè quando vado veloce qualche problema ci può essere perché non è un inchiostro lubrificato un inchiostro di china quindi vi assicuro che è un miracolo e va molto bene vedete su queste cose veloci con la k mi cade un po' ma ci può stare però io quando scrivo normalmente non vado a queste velocità no però vedete un bel pennino è veramente morbido tra le altre cose è anche un po' molleggiato lo vedete un po' elastico quindi mi vengono delle linee più spesse se schiaccio ma devo schiacciare molto però la confortevolezza di scrittura quando elastico io la sento quindi 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 va proprio bene cioè vedete adesso poi è sceso meglio l'inchiostro adesso va anche la k me l'ha fatta bene quindi funziona molto bene quindi io al momento che devo appunto lavorare su delle pergamene vegetali che appunto è il mio supporto di scrittura quando mi chiedono le cose dove ho dei problemi a lavorare col mio ferro gallico perché non scurisce con queste penne posso andare tranquillo ok perché poi tra le altre cose quel supporto è anche paraffinato veramente un supporto non dico schifoso dal punto di vista però presenta veramente molti problemi però permette ci sono già le cornicette insomma tutti vogliono quella roba lì di sicuro non cercano tranne case eccezionali la vera pergamena animale andiamo a vedere adesso anche anche l'altra penna quella più grande quella vi faccio vedere nel frattempo che vedete ha il suo al suo converter della Schmidt ok ah poi vedete anche questo il carruccio ha la possibilità di avere questa veretta con diversi colori quindi voi dalla veretta capite subito che penna state prendendo ok vedete che anche questo parte senza nessun problema è solo un po' più grande e in italico da 1.4 ecco la cosa che mi sento di dire alla IndieGraph di magari fare ancora una punta maggiore che ne so un 1.9 questi due vanno bene ma poi ce ne andrebbe anche uno un po' più grande ecco poi tornando un attimo alla penna perché uno dirà ma hai parlato solo bene di sta penna non ci sono delle cose negative sì cavolo se ci sono allora riportiamoci su un campo più aperto allora l'unico vero grande problema quindi abbiamo visto questo funziona il design non mi dispiace la clip funziona bene costruttivamente ben assemblata ben fatta l'unico grosso neo che mi dà un po' di problemi è questo qua il gruppo scrittura che praticamente è molto piccolo per le mie mani che non ho mani però sono mani da uomo praticamente è piccolo e il movimento della penna con la pressione a pinza viene un po' inficiato dal fatto che io faccio veramente fatica quando è piccolo tendo a stringere di più quindi tendi nella mano dopo un po' mi si stanca non mi fanno male quindi quando io scrivo poi è un cilindro quindi la mano tende a scivolare per fortuna questa verniciatura opaca un po' mi aiuta il grip ma non è che fa miracoli diciamo che una mano femminile mi tiene molto meglio questa penna e tra le altre cose ho la parte qua della vite proprio dove vado a tenere la penna quindi mi dà veramente molto fastidio non la trovo molto confortevole se devo immaginare delle lunghe sessioni di scrittura ecco io con questa penna non le farei proprio non c'è mezz'ora un'ora di scrittura la posso fare e ringrazio Indicrap perché veramente mi consente di lavorare senza più il patema d'animo di mettere acqua qua dentro fare e poi la penna comunque dopo così la penna classica stiografica dopo due o tre giorni è completamente intasata di nuovo da lavare e spesso anche con ultrasuoni ecco qua dopo giorni e giorni non è successo niente adesso poi ve lo dirò col tempo per quanto tempo continua a resistere ma io penso che rimarrà veramente può rimanere anche dei mesi credo ma questo poi ve lo saprò dire più avanti però rimane il fatto che non ho quella totale confortevolezza di scrittura che avrei preferito quindi io avrei preferito un gruppo scrittura qua alla prensione almeno di un millimetro un e mezzo un po' più grande questo un po' più arretrato da avere libera completamente senza perché un po' taglia la mano a me dà fastidio questa cosa qua cioè la parte di prensione deve essere completamente libera e magari un po' che si apre qua a scampana quindi che mi aiuta in caso di discesa dei miei polpastrelli delle dita mi blocca la penna invece qua non ce l'ho e la penna non è così salda anche poi per il fatto che è veramente piccola e la mia mano fa fatica a tenere un oggetto così piccolo ok tutto qua quindi magari i mani femminili potranno tenerla meglio qua anche un o-ring finale sento che chiude bene un po' come qua quindi la chiusura secondo me è quasi ermetica è perfetta e niente e la trasfutazione dell'umidità permette il mantenimento ottimale appunto della punta cioè sempre pronta all'uso perché vedete no veramente ma io ho fatto tantissime prove ma anche subito parte veramente al volo il fatto che sia umida questo aiuterebbe anche tutte le altre penne sia chiaro cioè non è una roba di fondamentale aiuto con questi inchiostri diciamo tosti però sarebbe un'idea non propriamente da scartare anche con tanti altri inchiostri quindi che vi devo dire l'altra nota diciamo tra virgolette semi negativa è il fatto che non costano propriamente poco stiamo parlando di poco più di 100 euro comunque consegnata a casa con questi particolari pennini che forse costano un po' di più comunque a chi la consiglio allora io la consiglio solo a chi deve veramente scrivere con inchiostri di china perché altrimenti oppure a chi ama il nero più profondo che c'è perché questi sono neri che oltre questo non si va siamo a un livello di nero incredibile e siamo con inchiostri che non temono comunque nulla ok lo vedete sono inchiostri che super resistenti anche alla luce ok lo vedete e anche all'abrasione sono sono super inchiostri e io di fatti le uso per documenti importanti e ci ho scritto tanti anni le pergamene dell'università di Torino e volevano proprio l'inchiostro di china non per nulla neanche il ferrovalico proprio l'inchiostro di china quindi il consiglio che vi do se vi piace scrivere con dei super neri ma vi ripeto ci sono anche inchiostri cioè per nini scusate normali quindi ripeto le F le F le M poi ci sono anche in oro quindi vedete un po' però sappiate che ogni penna costa sui 100 euro quindi non è proprio regalata ma secondo me li vale tutti perché comunque è assemblata bene fatta bene il pennini che ripeto credo sia uno Smith mi sembrano molto molto performanti molto scorrevoli è veramente un piacere scriverci l'unico neo rimane solo il fatto come vi dico come ho detto prima che ha le mani un po' grande e beh secondo me non la troverà molto cioè secondo me ci andava questo diametro sulla sulla guardate che differenza è notevole ok questo qui era il diametro più consono per la tenuta di quella penna lì quindi una cosa su 10-11 mm ok secondo me se la indica guarderà sta roba insomma gli ho dato questo video questa recensione gli ho dato diverse imboccate quindi anche un pennino più grande da 1,9 non sarebbe male sarebbe gradito boh pensateci niente con questo spero di aver fatto cosa gradita a tutti ho tolto un po' di dubbi secondo me su ste pende perché penso che in parecchie abbiamo visto le pubblicità ma poi si sono chiesti effettivamente questa penna se valeva la pena di essere acquistato o meno e boh spero di essere stato esaustivo insomma in tutta questa presentazione e niente a sto punto vi saluto e come sempre vi ringrazio per essere rimasti qua con me a seguire questa prova su queste Indicraft veramente veramente performanti e innovative ok un grosso ciao di nuovo a tutti grazie un po' di nuovo a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.